Arrestati Guerino Primavera e i suoi due figli Fabrizio e Daniele, latitanti dallo scorso 30 luglio. Le indagini condotte dagli investigatori della squadra mobile romana avevano consentito lo smantellamento di un'associazione criminale, dedita al traffico di stupefacenti nel quartiere di San Basilio, all'usura e alla turbativa tasta in merito all'assegnazione dell'appalto delle camere mortuari e dell'ospedale Sant'Andrea, fatto che aveva portato all'arresto del direttore generale e di alcuni componenti della famiglia Taffo. Il primo dei due blitz scattato la sera del 14 agosto ha consentito la cattura di Guerino Primavera, dedito all'attività di usura ed estorsione nella zona di Monte Sacro, all'interno di un'anonima abitazione in località Cerenova, dove si era rifugiato insieme alla moglie. Fabrizio e Daniele e i due figli invece sono stati sorpresi mentre trascorrivano la latitanza in una villetta residenziale a Fregene.